Sono Giacomo Giannarelli e sono il vostro portavoce Presidente della Regione Toscana, un applauso, dai, dai! Però io lo so che voi lo aspettate, molti di voi si aspettano l'uomo forte, l'eroe è quello che viene qua risolto dei miei problemi da solo, scordate non sarà così, non sarà così, né io ho intenzione di diventare quello che va a fare i tagli dei nastri, inaugurazioni, la presentazione dei libri, non sarà così, noi non siamo quelli, lentamente muore chi non ribalta il tavolo, lo diceva una poesia, lentamente muore chi non ribalta il tavolo, ribaltiamolo il 31 maggio e tutti i giorni successivi con un impegno a partecipare alla cosa pubblica, la Repubblica ha bisogno dei cittadini, forza!